La Regione Campania oggi ha siglato un protocollo con tutte le associazioni dei commercianti per stabilire regole precise sui saldi. Noi vogliamo dei saldi certificati, vogliamo che il consumatore trovi davvero delle occasioni e quindi non siano più quei finti saldi con capi che giacevano magari in magazzino da un paio di anni. I saldi dovranno avere delle loro regole, Confcommercio, Confesercenti, LASCOM sono impegnati a trasmettere a tutti i loro associati questo VADECOM che per quanto ci riguarda diventa la Bibbia su come dovranno svolgersi i saldi in questa Regione. Secondo noi se il consumatore avrà regole, i negozianti si atterranno a quanto stabilito probabilmente riparte anche un po' il commercio all'interno delle nostre città.